le nostre due azzurre presenti qui alla finale del Corpo Libero prima linea molto buona per Lía, doppio carpiato sufficientemente alto per arrivare in posizione eretta flick tempo flick, doppio avvitamento, bene anche la seconda diagonale della Parolari qui ha fatto un passo invece in avanti, doppio avvitamento avanti, un passetto che può stare tripa pirouette non completata, la terza rotazione non è andata benissimo invece sono dei movimenti congeniali